E qui? Super extra resolution Arrivo! Dai, non mi fare stavaccate così Entra, entra, entra! E' proprio sto addon, che molte si inceppano, non ho capito Non vedo niente No, fallito Ho portato a raffreddare il computer Ma... Ho portato il mech... Ho portato il mech a spegnersi nell'acqua, ma brucia ancora sott'acqua Non è che ha molto senso Mi sento imbattibile Da vedere come sarà più potente Sara Junior Vuole fare un uovo con te Sì 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 Sì